Ciao, io sono Patrizia e in questo video ti parlerò delle novità di Faberlic di Campagna 13. Ciao, se è la prima volta che passi da qua io sono Patrizia e mi occupo tra le altre cose anche di Faberlic. È un'azienda che mi piace moltissimo e quindi sono diventata da un anno consulente. Oggi ti voglio parlare del catalogo attuale che inaugura l'autunno. Allora, catalogo bellissimo, colori davvero accattivanti e che danno anche un po' di energia, di brio, questo verde che anticipa alcuni colori trend della stagione, questo verde petrolio, che ritroveremo anche nella collezione di abbigliamento che qualcosa la possiamo trovare sul sito già online e poi c'è un catalogo specifico che vi linkerò nell'info box per vederlo in formato digitale. Questo catalogo invece cartaceo è quello che ho a disposizione per tutto il resto, cioè skin care, profumi, make up, detersivi, prodotti per gli animali, prodotti per il benessere, per la salute. Faberlic ha davvero un catalogo ricchissimo. Qui ci ha contenuto soltanto un estratto con le offerte, le promozioni, gli sconti del momento di questa campagna, ma sul sito troverai molto molto di più se ti iscrivi. Quindi ti voglio illustrare la promozione per i nuovi acquirenti, per chi si iscriverà in questa campagna ed effettuerà un ordine. Ha 29,99 euro prezzo di catalogo in questa campagna, da cui togliere, attenzione, il 20%, perché tutte le consulenti, le clienti privilegiate, le consulenti che fanno ordini tramite il sito, quindi direttamente in autonomia e non fisicamente da una consulente, hanno il 20% di sconto. E al secondo ordine potranno ricevere questo set di cura della bellezza per la pulizia profonda, del valore di 25,97 euro, facendo un ordine minimo al secondo ordine. L'ordine minimo, ti ricordo, è di 18 euro. Allora, questa è la linea agli enzimi alpeptide e agli alfa idrossi acidi. Sono tre prodotti da utilizzare in sequenza per una pulizia profonda. Io l'ho utilizzato tutto questo set completo, mi è piaciuto tantissimo. L'ho utilizzato lo scorso inverno con la bella stagione, l'ho sospeso, ma dei prodotti li ho anche proprio finiti e ho intenzione di recuperarlo, di riprenderlo ora che arriva appunto il freddo. Quando arriverà il freddo? Finché c'è sole? No. Bando alle ciance. Allora, continua per tutti i clienti iscritti questa promozione like, per chi fa ordini con continuità, al terzo ordine continuativo che fai, potrai ricevere uno dei tuoi prodotti preferiti con il 70% di sconto. C'è quasi tutto il catalogo incluso, tranne il pentolame e alcuni prodotti particolari, però insomma sui profumi, la skin care, il make up, i detersivi, c'è tutto, quelli li trovate. Allora, andiamo avanti con l'offerta di profumeria importante di questo catalogo. Ogni campagna ci sono dei profumi del valore alto, dal valore alto, che vengono messi in sconto folle e qui troviamo Renata. Renata è un profumo orientale, ambrato, caldo, voluttuoso, sexy, da morire, che fa parte della categoria alta di profumi e lo troviamo a 17,99 euro, mentre il suo prezzo standard sarebbe di 45. Io ce l'ho questo profumo, ho anche il Renata Secret, che è un flanker, ma adesso in offerta c'è lui, quindi vi consiglio di approfittare, ti consiglio di approfittare. Per capire un po' il genere, a me ricorda molto l'Armani Si, ha una durata veramente importante, è un profumo perfetto per essere utilizzato nella stagione fredda, contiene nota di orchidea, di frutti rossi ed ha una base di paciulli e di legno di cashmere, quindi un ottimo profumo. Ma troviamo anche tantissimi profumi in super offerta, qui ad esempio c'è Pour Toujours, che è un profumo da sposa al 50%, continuiamo con la carrellata di profumi super scontati, e un altro profumo che io ti voglio assolutamente consigliare di prendere adesso, che è scontatissimo, è il famosissimo Murmur, questo è il profumo di punta degli ultimi mesi di Faberlic, ed è creato da un naso favoloso e importante, gran parte dei profumi Faberlic sono creati da grandissimi nasi, questo è creato da Bertrand Duchoffour, che è uno dei nasi di Luton, per dirne una, e che ha creato molti profumi buonissimi, importanti, questo profumo ha note di cocco, di caramello e di cioccolato bianco, ma è un gourmand fuori dagli standard canonici, è molto particolare, è molto originale, appunto sensuale, ma anche girly, eppure al tempo stesso è perfetto per una donna matura, è veramente buonissimo come profumo, ha un'ottima durata, un packaging stupendo, con questo pompon che richiama il musetto dei gattini, infatti il nome Murmur si ispira al meo del gatto, quindi questo te lo straconsiglio, e poi ci sono tantissime altre cose, insomma c'è tutta la linea anche di profumi da uomo, qui abbiamo la coppia di Viking e Valkyrie, anche questi sono ottimi profumi creati da nasi importanti, io ho il Valkyrie da donna e vorrei prendere il Viking da uomo, sono dei profumi freschi, ghiacciati, energizzanti, è molto molto elegante quello da donna, molto sensuale, qui abbiamo Vandaventure, anche questo è creato da Pierre Bourdon addirittura, e insomma tante linee da uomo. Allora andiamo avanti con Fuori dai profumi, vediamo una linea completamente declinata al maschile, per la cura della barba, si chiama appunto questa linea Barber Lab, e comprende tutta una serie di prodotti specifici per la cura della barba dell'uomo, addirittura ci sono dei gel per tenerla, per curarla, per ammorbidirla. Allora qui troviamo allo sconto che va dal 45 al 55%, la linea specifica Dr. Core per la pelle della donna in menopausa. Questa è uscita da poco, quindi cura la pelle in fase di invecchiamento ormonale, ci sono quattro prodotti specifici, tra cui due creme viso, un'antipigmentazione, una con fitoestrogeni, una crema lifting con tornocchi, e una crema specifica per il corpo con tecnologia Deo Fresh. Questa linea io la voglio provare, credo che prenderò qualcosa, e mi intriga molto la crema corpo, perché è una crema fresca, che mantiene comunque la pelle idratata, ma resiste anche ai colpi di calore. Quindi sappiamo che la donna in menopausa può essere soggetta a sudorazioni abbondanti. Poi abbiamo altre linee specifiche, sempre di questa marca, di questo brand, che è il Dr. Core, c'è la linea per l'acne, che è questa, che ha dei prodotti davvero molto, molto interessanti, addirittura c'è una maschera notturna che si può tenere tutta la notte, c'è la linea per la pelle secca, e la linea per la pelle sensibile, ognuna con dei prodotti, insomma, particolari. Ottima è questa linea alla melatonina, voglio farti vedere una cosa, sono mossa per prenderla, perché all'ultimo spacchettamento, questi prodotti li avevo presi, e mi erano rimasti in fondo alla scatola, e ho dimenticato di mostrarteli. Allora, la Drin Therapy è una linea che ha la melatonina incapsulata, e è uscita con nuovi prodotti, cioè una candela per la notte, guarda che bella, ha un colore davvero particolare, blu notte, e ha una profumazione gradevole, ma la particolarità di questa candela, è che al suo interno, appunto anche qui, c'è la melatonina incapsulata, che si può quindi respirare, prima di andare a dormire, aprite le finestre, e vi induce un relax, quindi è questa la particolarità di questa candela, come anche questa essenza in olio, è un concentrato profumoso, proprio Drin Therapy alla melatonina, una anti-stress essence, è un profumo in olio, da strofinare sui polsi, e dietro i lobi delle orecchie, prima di andare a dormire, e poi abbiamo anche lo spray per il cuscino, e per la biancheria, e per l'ambiente, quindi con la melatonina incapsulata, poi ci sono anche altri prodotti, c'è ad esempio la mascherina, che mi arriverà in questo ordine, c'è la maschera da notte, c'è anche la crema da notte, e mi sembra anche il dentifricio, sì, anche il dentifricio io l'ho utilizzato, quindi qui troviamo i prodotti scontati, come anche la linea Oceanum, che si basa su un brevetto particolare, di alghe brune della Bretagna, mi sembra una, sì, è un brevetto specifico, e contiene prodotti per il corpo, anche qui per il viso, famosissimi sono questi, i patch per il contorno occhi, questa alga in particolare è stata studiata, per avere una capacità di sopravvivenza, a temperature e in luoghi davvero ostili, e quindi sono state studiate le proprietà di questa alga, prodotto iconico è la linea all'ossigeno, il famoso balsamo all'ossigeno rigenerante, che cura l'acne, cura le bruciature, le punture di insetti, le dermatiti, è il balsamo miracoloso di Faberlic, ma c'è anche tutta una linea di cura, con questo principio attivo, e andando avanti troviamo tantissime, tantissime linee davvero di cura, per la skin care, vi consiglio anche questa, la Biomica, che è prodotta con ingredienti, al 90% e oltre naturali, ed è una linea che si preoccupa, della cura del bioma, della pelle, ed è senza sless, senza silicone, e senza parabeni, ci sono vari prodotti anche qui, anche shampoo di questa linea, e vi consiglio anche questa linea qui, della botanica, che è anche una linea per la cura, del cuoio capelluto, dei capelli, del bagno schiuma, eccetera, e per la skin care, che contengono prodotti appunto, a base, cioè a base di ingredienti naturali, al 97%, specifiche, linee specifiche, per ogni età, mamma mia, non finiamo più, ogni catalogo davvero, ci sono delle novità incredibili, anche questa linea di cura per le mani, e i piedi, che è uscita da poco, che si chiama, happy steps, happy hands, ci sono tantissimi prodotti, appunto, per curare un po' tutto, vi voglio consigliare, questo mascara, che io ho preso, allo scorso ordine, nel colore marrone, lo sto usando adesso, e mi piace tantissimo, ha uno scovolino fantastico, ci sono nuove tonalità, appunto, uscito il marrone, e uscito anche questo verde bosco, oltre al classico nero, li voglio prendere, perché il marrone, mi piace davvero, davvero tanto, è un prodotto, che rimane naturale, e devo dire, il mascara marrone, non l'avevo mai preso in considerazione, ed ha uno scovolino, e mi piace molto, allora, una novità, nel make up, sono queste piccole palettine, componibili, che stanno uscendo, a dei prezzi davvero, bassissimi, si possono comprare, le cialde, e costruirsi, la propria micro palette, quindi, si compra la base, la palette, e poi, le cialde, che si possono comporre, sostituire, crearsele, per portarle in viaggio, c'è anche il, lo specchietto, e, mi sembra che i colori, siano anche, matt, sì, i colori sono tutti matt, quindi, colori naturali, matt, e, niente, me ne voglio prendere una, perché questi sono i colori, che io davvero amo, vi ricordo i prezzi bonus, quando vedete, questa indicazione, con il color rosso, prezzo bonus, c'è la specifica sotto, che è, un miglior prezzo, e che si possono ottenere, appunto, a prezzo vantaggiosissimo, questi prodotti, indicati, con l'acquisto, di un tot, dal catalogo, minimo, quindi, guardate bene, e approfittate, tantissimi prodotti, per il make up, ci sono prodotti, per le sopracciglia, sono usciti, anche aspettate, che vediamo, se li cerco, i nuovi rossetti, della linea nude mood, questi rossetti, sono opachi, hanno tutti i colori, naturali, quindi, sono perfetti, per l'autunno, e voilà, io ne voglio provare, uno, e sono, a prezzo di lancio, a 6,49 euro, allora, c'è, trovate davvero, di tutto, vi ricordo, anche la linea, para farmaceutica, che ha una marea, di prodotti, per la cura, dei denti, dei capelli, del corpo, di problemi specifici, ad esempio, è uscita la crema all'arnica, di questa linea, che la troviamo, insomma, anche ancora, in sconto, e, che dire, la linea dell'amore, qui ci sono prodotti, un po' specifici, oltre ai detergenti intimi, ci sono anche i lubrificanti, ci sono i colluttori, insomma, una linea un po' particolare, la linea, nuova, dell'atelier, del sapone, questi sono prodotti, saponi, naturali, con ingredienti naturali, al 94%, le tinture, per i capelli, questa, è la mia preferita, la salon care, ha dei colori belli, naturali, ed è una tinta, molto, molto performante, e tutti i prodotti specifici, per la cura dei capelli, questa è la linea, per curare il capello, praticamente, biondo platino, la linea giapponese, a riso, con prodotti, particolari, qui c'è la crusca di riso, il riso fermentato, la linea, per i bambini, kids, per bambino e bambina, sono buoni, questi, i miei figli usano qualcosa, ancora di questi, perché sono prodotti delicati, e non aggressivi, ma c'è anche la linea, per i bebeti, questa linea, io ho preso le salviettine, e mi sono piaciute molto, tutta la linea alimentare, ve la straconsiglio, qui andrebbe aperto, un capitolo, a parte, per la linea, Nesha e wellness, perché qui troviamo di tutto, ci sono i porridge, ad esempio, le cioccolate, che apportano, minerali, e sono senza zucchero, è uscito il caffè, questi ancora, non sono riuscita a provarli, ma il cavallo di battaglia, sono le bevande proteiche, cioè gli shake proteici, come sostituti del pasto, che contengono collagene, e hanno un'alta percentuale, di proteine, c'è la super promozione, ne prendi due, e ne prendi tre, e ne paghi due, praticamente, tra questi, e questi, che sono quelli più specifici, per gli sportivi, io ho fatto un video lunghissimo, tralasciamo, un po' il resto, però, ricordatevi, che ci sono anche, tante, tante altre chicche, come la linea Greenly, di detersivi biologici, ti saluto, ti bacio, se vuoi informazioni, contattami, scrivimi, mi trovi, come, come mandorle e cioccolata, su Instagram, trovi qui sotto la mia mail, trovi il link, dei cataloghi, trovi il link, di iscrizione, per entrare nel mio team, e sarà un piacere per me, seguirti, un bacio, alla prossima, ciao ciao!